Il 2013 chiude male, in particolare calano fatturato ed investimenti e per le piccole e medie imprese il quadro rimane ancora molto difficile. E' quanto emerge dai dati rilevati da Trender, l'osservatorio congiunturale della micro e piccola impresa realizzato da CNA, Emilia Romagna e banche di credito cooperativo in collaborazione con l'Istat. Rispetto all'anno precedente, la seconda parte del 2013 fa registrare un ulteriore arretramento dell'attività economica. Il giro d'affari continua a diminuire e con esso gli investimenti e i consumi. Il fatturato fa segnare infatti un meno 7%. Gli investimenti addirittura sono in caduta libera, segnando un meno 15,8%. Ciò nonostante aumentano le risorse a sostegno del lavoro e della formazione, delineando una risposta alla crisi che punta alle competenze e alla qualificazione del lavoro. Tra i settori male costruzioni, alimentare, tessile e abbigliamento, segnali positivi solo da legno mobile. Solito, segno più anche per l'export che cresce dell'1,3%. Il 2013 chiude malissimo. I dati ci dicono che gli investimenti sono in calo due cifre. Il fatturato è in calo, tutto è in calo. Anche l'alimentare, che era l'unico settore che sembrava avesse intrapreso una strada positiva, è in netto calo. Quindi ci aspettano tempi bui. L'unico dato positivo è il dato dell'export, però anche questo in calo rispetto al semestre precedente. Certo, se qui non si fanno delle cose, non si fanno delle riforme, non si incide sui grandi nodi che non permettono la ripresa, il futuro è veramente negativo. Innanzitutto calare la pressione fiscale, che ha raggiunto livelli enormi. Costi della burocrazia, che è la piccola impresa, costano 5 miliardi all'anno. Favorire l'accesso al credito per dare quella liquidità alle imprese per poter fare gli investimenti.